Ciao, il mio nome è Unbox. Sono un robot programmabile e posso fare cose bellissime. Posso muovere la mia bocca così. E così. Ho sette motori. Guarda come li posso muovere. Posso muovere la testa in su. E in giù. Girarla a destra. E a sinistra. Guardare di qua. E di là. Guardare in giù. Posso fare l'occhiolino. Buona programmazione. Trovate tutti i riferimenti di O-Boat nell'info box. Se siete curiosi di vedere come l'ho montata e programmata, mettete un mi piace al video e continuate a seguire il canale. Ciao!